Dopo cena stavamo discutendo tra uomini nel fumoir. Parlavamo di successioni inattese, di strane eredità. Il signor Lebrumet, che qualche volta chiamavamo illustre maestro ed esimio avvocato, andò ad appoggiarsi al caminetto. Disse, proprio in questi giorni sto cercando un erede scomparso in circostanze straordinarie. È uno dei drammi semplici e feroci della vita d'ogni giorno, una vicenda quotidiana che, pure, è tra le più terribili che conosca. State a sentire. Quasi sei mesi fa mi chiamarono al capezzale di una donna che stava morendo e che mi disse «Signore, vorrei affidarvi una missione lunga, delicata e difficile. Leggete per favore il mio testamento che è lì sul tavolino. È previsto un legato per voi, un onorario di 5.000 franchi se non riuscirete e di 100.000 se riuscirete a compierla. Dopo la mia morte dovete ritrovare mio figlio». Mi domandò di aiutarla a sedersi sul letto per poter parlare più agevolmente, poiché la sua voce, tremula e spezzata, mi restava spesso nella gola. «Ero in una casa ricchissima. La camera, lussuosa ma lineare, era imbottita di stoffe erte come muri, lievi alla vista come una carezza, e così atte ad attutire tutto che le parole sembravano sparirvi, morirvi». La donna in punto di morte continuò. «Siete la prima persona a cui racconto la mia terribile storia. Cercherò di arrivare fino in fondo. Dovete sapere tutto. Voi siete, e io lo so, persona di nobili sentimenti e nello stesso tempo pratico delle cose del mondo. Così potete sinceramente desiderare di far tutto il possibile per aiutarmi. Ascoltatemi». Prima di sposarmi avevo amato un giovane rifiutato dalla mia famiglia perché non abbastanza agiato. Poco dopo sposai un uomo ricchissimo. Lo sposai per ignoranza, per timore, per disobbedienza, per indifferenza, come fanno spesso le ragazze. Ebbe un figlio maschio. Mio marito morì dopo qualche anno. L'uomo che avevo amato s'era a sua volta sposato. Quando seppe che ero vedova, provò grandissimo dolore per non essere più libero. Venne a trovarmi. Pianse e si inghiozzò da spezzarmi il cuore. Fummo amici. Forse non avrei dovuto riceverlo. Ma che volete? Ero sola. Tanto triste e isolata. Tanto disperata. E ancora lo amavo. Quanto si soffre in certi momenti. Anche i miei genitori erano morti. Avevo soltanto lui al mondo. Veniva a trovarmi spesso e passava intere serate con me. Non avrei dovuto permettere che venisse tanto spesso, dato che era sposato. Ma non riuscivo ad impedirglielo. Insomma, divenne la sua amante. Come successe, non lo so. Come si fa a saperlo? Credete che ci sia una diversa soluzione per due esseri umani spinti l'uno verso l'altro dalla forza irresistibile di un reciproco amore? Credete, Signore, che si possa resistere sempre, lottare sempre, rifiutare sempre quello che viene chiesto con preghiere, con suppliche, con lacrime, con frasi infuocate e slanci appassionati. In zinocchio dall'uomo adorato, quello di cui vorremmo appagare ogni minimo desiderio, quello che vorremmo riempire da ogni gioia possibile e che invece riduciamo alla disperazione per rispettare le regole della società. Quanta forza occorrerebbe? Quale rinuncia alla felicità? Quale abnegazione? E anche quale eroismo di onestà? Non è vero. Insomma, Signore, divenne la sua amante e fui felice. Per dodici anni fui felice. Diventai anche, e in questo fui molto debole e vile, amica della moglie di lui. Educammo insieme, mio figlio. Ne facemmo un uomo, un vero uomo, intelligente, sensato, volenteroso, di idee aperte e generose. Il ragazzo compì diciassette anni. Lui amava il mio amante quasi come me, dato che era stato curato e ben voluto da entrambi allo stesso modo. Lo chiamava mio buon amico e lo rispettava moltissimo, avendo avuto da lui solo saggi insegnamenti ed esempi di lealtà, di onestà, di probità. Lo considerava un vecchio, sincero e affezionato compagno di sua madre. Una specie di padre morale, di tutore, di protettore. Forse non sarei mai posto domande, dato che era abituato sin dai primi anni a vedere quell'uomo in casa vicino a me, vicino a lui, sempre premuroso verso di noi. Una sera dovevamo cenare tutti e tre insieme. Era per me la gioia maggiore, e io li stavo aspettando, domandandomi chi dei due sarebbe arrivato per primo. Si aprì la porta, era il mio amico, e andai incontro a braccia aperte, e lui mi dette un lungo bacio di felicità. All'improvviso un rumore, un fruscio, quasi un niente. La sensazione misteriosa che ci indica la presenza di qualcuno ci fa trasalire. Ci volgemmo di scatto. Dietro di noi c'era Jean, mio figlio. Ci fissava annichilito. Ebbe un terribile attimo di sbarrimento. Indietreggiai, tendendo le mani verso mio figlio come in una preghiera. Non c'era più, se n'era andato. Rimanemmo uno di fronte all'altra, prostrati, senza parole. Mi lasciai scivolare su una poltrona, con il desiderio confuso e potente di fuggire, di andarmene nell'oscurità, di sparire per sempre. Singhiozzi convulsi mi confiarono il petto, e piansi, spasimando, l'anima straziata, in arvi contratti dalla spaventosa sensazione di un'ascia agura a cui non c'era riparo, e dalla tremenda vergogna che avviluppava in un frangente simile il cuore di una madre. Lui stava lì davanti a me, sgomento, senza avere il coraggio di avvicinarsi, di parlarmi, di toccarmi, per la paura che il ragazzo facesse ritorno. Alla fine disse, vado a cercarlo, per dirgli, per fargli capire, insomma, devo vederlo, dargli una spiegazione, e uscì. Aspettai, aspettai fuori di me, trasalendo ogni minimo rumore, piena di paura e di una indescrivibile commozione, insopportabile, ogni volta che la legna scoppiettava nel caminetto. Aspettai per un'ora, due. Sentivo crescere nel mio animo uno spavento misterioso, un'angoscia tale che non augurerai neppure al peggiore dei criminali, dieci minuti simili a quelli. Dov'era mio figlio? Che cosa poteva fare? Verso mezzanotte un commissario mi portò un biglietto del mio amante. Me lo ricordo ancora. È tornato vostro figlio? Io non sono riuscito a trovarlo. Sono sotto la vostra casa. Ma non voglio salire a quest'ora. Scrissi con la matita sull'orveccio di quel foglio. Già non è tornato. Dovete trovarlo. Trascorsi tutta la notte sulla poltrona, in attesa. Stavo impazzendo. Avevo voglia di urlare, di mettermi a correre, a rotolarmi per terra. Eppure non mi muovevo, seguitavo ad aspettare. Che sarebbe accaduto? Cercavo di intuirlo, ma non riuscivo a prevedere niente, nonostante i dubbi e le torture della mia anima. Avevo persino paura che si incontrassero. Che avrebbero fatto? Che avrebbe fatto, mio figlio? Ero straziata da orrendi dubbi. Mi perdevo in spaventose congetture. Mi capite bene, non è vero? La mia cameriera, che non sapeva niente e non capiva niente, veniva continuamente, pensando che fossi diventata matta. La mandavo via con una parola o con un gesto. Andò a chiamare il medico, che venne a visitarmi mentre mi torcevo in una crisi nervosa. Mi misero a letto. Ebbi una febbre cerebrale. Quando tornai in me, dopo un lungo periodo di malattia, vidi accanto al letto il mio amante. Solo. Gridai, mio figlio? Dov'è mio figlio? Non rispose. Mormorai con un fil di voce. È morto? Sei ucciso? Mi rispose, no, no, ve lo giuro. Ma non sono riuscito a trovarlo, nonostante tutti i miei sforzi. Mi addirai, mi indignai, impreda una collera inspiegabile senza spiegazioni logiche. Vi proibisco di tornare qui e di rivedermi se non riuscirete a ritrovarmelo. Andate via. Uscì. Non ho più riveduto nessuno dei due, signore. Vivo in questo stato da vent'anni. Riuscite a immaginarvelo? Potete comprendere quale mostruosa tortura, quale lento, continuo strazio del mio cuore di madre e di quella attesa spaventosa e senza fine. No, sta per finire. Perché muoio. Muoio senza aver riveduto né l'uno né l'altro. Il mio amico mi scrive ogni tanto. Da vent'anni. E io non ho mai voluto riceverlo. Nemmeno per un attimo. Perché sono certa che se tornasse qui, in quello stesso momento, mio figlio. Mio figlio. Mio figlio. È vivo? È morto? Dove se è nascosto? Forse oltreoceano? In un paese tanto lontano che non so neppure che non me abbia. Pensa mai a me? Oh, se sapesse. Quanto sono crudeli i figli. Avrà compreso a quale terribile sofferenza mi condannava, a quale disperazione, a quale tormento mi condannava, viva e ancora giovane e sino alla fine dei miei giorni. Condannava me, sua madre, che lo amava con tutta la violenza dell'amore materno. Quanto è crudele. Non vi sembra? Diteglielo. Ditegli tutto e ripetetegli le mie ultime parole. Figlio mio caro. Figlio adorato. Sii meno spietato verso le povere creature umane. La vita è già abbastanza dura e feroce. Mio caro figlio. Pensa a com'è se svolta l'esistenza di tua madre, della tua povera mamma, dal giorno in cui l'hai abbandonata. Perdonala, figlio caro. E ora che è morta, voglili bene, perché ha scontato la più terribile delle penitenze. Ansimava, fremente come se davvero avesse potuto parlare al figlio in piedi di fronte a lei. Poi aggiunse. Ditegli anche, signore, che non ho più riveduto quell'altro. Fece una pausa, poi continuò con voce rotta dall'emozione. E adesso andate via, per favore. Voglio morire da sola, perché loro non sono accanto a me. L'avvocato Broumen concluse. Usci piangendo come una vite tagliata, signori miei, così forte che il cocchiere si voltò ad osservarmi. E pensare che ogni giorno, proprio vicino a noi, succedono tanti drammi simili a questo. Non sono riuscito a ritrovare il figlio, quel figlio. Pensate quel che volete. Io dico, quel figlio criminale.